I carabinieri della stazione di Maida, coadiuvati dal nucleo cinofili di Vibo Valencia, hanno arrestato in flagranza un 22enne incensurato, residente nella frazione di Vena di Maida, durante un servizio di controllo. I militari hanno notato un continuo enomolo via vai di giovani a tutte le ore del giorno dall'abitazione del giovane, suscitando sospetti. A seguito di accurati controlli personali e domiciliari, il 22enne è stato trovato in possesso di 1,125 grammi di marijuana, parte dei quali suddivisi in dosi, quasi un grammo di hashish, tre spinelli, vario materiale da confezionamento e due bilancini di precisione perfettamente funzionanti. Inoltre è stata rinvenuta una pistola calibro 7,65 marca Walter, con matricola a brasa e sette munizioni. Dopo gli addempimenti di rito, il giovane è stato trasferito nel carcere di Catanzaro.